Il PD si spacca, D'Alema ha trattato come un cane... Sì, è vero, come un pellaio l'ha trattato. Cioè ora, il centro-sinistra vuol vedere se sbaglia un altro rigore a porta a voto. Sicuro, sicuro. Non riescono, dico io fortunatamente, mai a vincere, anche perché non ci capiscono niente. Si mettono, cioè noi si vince, il centro-destra si vince, non perché siamo bravi, ma... Lei? Io non so del centro-destra. No, io, del centro-destra si vince, non perché siamo particolarmente bravi, perché anche noi ce la mettiamo tutta per perdere. Però gli altri, cioè il PD, sono ancora peggiori di noi e quindi loro riescono a perdere sempre. Allora, ora c'è questa Deborah Bergamini, Volti Nuovi, la comunicazione... No, questa non è Volto Nuovo, questo è in pezzo che c'è. Berlusconi ha fondato questo... Forza Italia. Ma questo era commosso. Era commosso, sì. Ma a me mi fa un po' ridere quando si è commosso. Anch'io, non sono... Perché chi ha guadini, non si deve commosso. Sono d'accordo. Vedere un riccone, che male che fa... No, ma poi il peggio è stato quando ha detto che i suoi figli... Ma se lavorava a Buitoni! Che cazzo faceva? Ma la cosa grave è quando ha detto che i suoi figli erano perseguitati come gli ebrei da Hitler. Cioè io vorrei essere la sua figliola. Te? E essere perseguitata in quel modo. Non mi rispondi, Leo. E sarà meglio, va. Vediamo a pagina 9 perché... Che c'è? Salto anche la cancellieri, guarda. Arrivo al fisco perché da una statistica di Confesercenti risulta che la tassazione sulle pensioni in Italia è la più alta d'Europa, stranamente. Strano. Allora la mia domanda è... Ma con un rapporto spaventoso perché noi paghiamo 4... Cioè noi, un pensionato... Sì, ancora ce l'ho la pensione. Anch'io. Un pensionato paga 4... Di media, mediamente, no? È calcolato su una pensione media. 4.000 euro all'anno è di pensione contro i 39 euro che paga un pensionato tedesco. Cose da pazzi. Allora io dico, siccome spesso prendono la Germania come esempio perché lì c'è questa tassa, lì c'è questa... Perché la prendono anche quando c'è... Le cose, anche le cose positive. Questa è una cosa vergognosa perché veramente il fisco sta ammazzando tutti e soprattutto i pensionati che dopo aver lavorato una vita intera, aver fatto sacrifici contando sulla pensione, adesso si ritrovano a vivere la maggior parte con poco meno di 1.000 euro. E questa è veramente una cosa vergognosa. Quando poi si vede che c'è gente che piglia 30.000 euro al mese di pensione. Quindi veramente qui alla fine la gente... Arriva la fame e arriva anche alla rivoluzione. C'è poco da fare. Allora, praticamente c'è una notizia che vede i protagonisti di Arendini perché Marinoni a Confcommercio è entrato come nuovo direttore regionale al posto di Bottai. L'Alapini è vicepresidente come lo era. Quindi Arezzo dovrebbe almeno dal punto di vista commerciale in regione pensare un po' di più. Questo me lo auguro anche perché i commercianti dei problemi ne hanno tanti e quindi sarà bene che qualcuno in regione tuteli gli interessi dei nostri commercianti di Arezzo e della provincia di Arezzo naturalmente. Chi è questo? Le piante. Questo è quello che ha ammazzato al Pionta. Dopo se ne parla in chiusura. Ma le piante e le fanfane le hai visto? No, ancora non le ho viste. Ci ha messo le piante. La fotiglia ha messo. P-H. E che pianta è? Non la conosco. No P-H per la pelle. P-H. Potiglia si pronuncia a fotiglia. Come Fonola. Come Philips. P-H. Sì ma io non la conosco. Come Pica. È una pianta cespacea. C'è spugliacea. Ho parlato col Peloni perché Peloni... Il Peloni ne sta molto. È una pianta che le presenta una ficaia. Sì. Tutta un'altra cosa. Perché va... Io abbucco sempre. Perché va per in su. Per in su. Esatto. Ho capito. Non fa frutti. E com'è? Che le hai viste? Le hai viste? Sì. Come ti sembrano? Sono belle frasche. Io penso che quando scappa i scetti brianchi il sabato e la domenica le button giù tutte. Io penso. Anch'io. Io penso che al fine settimana non ci arrivano. Però dopo sai l'emulazione. Fanfani per ora ha detto era arrivare a Natale e metto le piante. Poi le addoberà anche queste piante. Come soffia allora, capito? Cioè soffia allora. Sì, questo io ho capito, ma non so che piante sono. Allora andiamo a vederle. Ci hanno le frasche col piacca, capito? Le frasche. Le frasche col piacca. Oh, dai, omicidio del pionta. Questo è un omicidio tra disgraziati, tra povera gente. Però erano su Facebook. Veramente? Sì. Questi erano su Facebook? Sì. Con il loro bel profilo. Dai, allora. Io comunque, su Facebook io non ci sono. Te ci sei, Leo? Io sì. Io no. Do siete? Su Facebook? Sei lì te? No. Su Facebook? Io sono su Facebook. Bene. Perché come fai a non far vedere quello che fai oggi? Su. Vedi? Oh. Lapini, Marinoni. Sì. Vediamo. Sì, no, io dell'Anna Lapini ne ho grande stima. È una donna veramente in gamba, preparata e quindi sono contenta. Il Marinoni capisce niente per te. Questo l'hai detto te. No, io ho detto te hai grande stima per la Lapini. Conseguentemente. Pensa che io l'ho per il Marinoni. Bene, siamo pari. Eh? Siamo pari. Si potrebbe uscire insieme. È certo. Io, te, la Lapini e il Marinoni. Certo. Così ti faccio compiere con il Marinoni. Sì, no, sì, arrivederci. È meglio. Per la simpatia che hai. Sì. Non ti dico quando te lo metti. Sì, appunto, lasciamo fare. E vipa. Ciao. Alla prossima.